Ciao a tutti di Cortini Virtus, sono un nuovo video, sono Lori Forza, aspetta un pacco speciale, è arrivato, potete vedere, d'accordo, ok? Piccolino Ebbene, sì, è un altro uccello Ah, ce l'ha il coso, mamma E non c'ho il nome a questo uccellino Allora, io non volevo fare un uccellino Ho fatto proprio in azione, valo a me Ma non so come devo chiamare, perché è arrivato qui È arrivato bellissimo ragazzi Io ho pensato di chiamarlo Pantynton Bella, no, ma pure no Ragazzi, non lo so Poi devo decidere un po' i nomi, ok? Per l'attenzione se lo vedete, se vi è piaciuto Facete like e scrivete le commedie Ciao When I met you in the summer Will you still love me when I'm no longer young?